ciao stefano ciao pier ciao a tutti amici e ciao a tutte amiche e benvenuti a questo nuovo video dedicato naturalmente ai tromboni dietro alla camera c'è pierangelo che ci sta supportando e sostenendo in questa fantastica giornata fantastica perché finalmente posso presentarvi la novità che aspettavamo da un sacco di tempo e per questo ringrazio gave italia che ci ha permesso di avere questo strumento a disposizione per tutti noi e per tutti voi per alcune giornate di prova di che trombone sto parlando ma naturalmente del nuovo peter steiner quindi denominato 47 psx di vincent buck il 47 psx è un trombone tenore artisan quindi della serie più top diciamo dell'azienda vincent buck e presenta delle grandissime novità che onestamente stavamo aspettando da tanto tanto tempo una delle cose che io non capisco e che faccio ancora fatica a capire è il perché si dà così poca importanza alla custodia nessuno nomina la custodia nel nessuna delle aziende dei tromboni nomina la propria custodia cioè in questo caso finalmente buck ha sviluppato in collaborazione con guard una custodia specifica per questo strumento marchiata buck fatta molto bene con questo bel bel tessuto che è una pelle sarà probabilmente un ecopelle inciso buck il trombone lo potete vedere e naturalmente poi lo scopriremo con una campana svitabile insomma perché dico che non si dà mai importanza alla custodia perché questa è l'involucro che conterrà il nostro gioiello per tutta la vita che noi lo porteremo sulle spalle quindi è troppo importante e è un bel consiglio che darei a tante tante aziende non tutte perché qualcuna ha già capito questa cosa da tempo però ecco date importanza anche alla custodia per favore in questo caso finalmente abbiamo un oggetto di un certo valore allora come potete avere già intuito esternamente si conterrà la culisse la culisse che è una 47 eccola qui 47 è la culisse della serie artisan lo potete vedere qua vieni Pier guardate 47 47 questa culisse di natura un po' diversa dal solita dalla solita culisse slide 42 in questo caso addirittura abbiamo tre tipologie di cannelli differenti abbiamo tre lead pipe estraibili che possono essere sostituite che sono 47 42 42 open in questo caso già montata abbiamo una 42 open che ci darà una una fluidità notevole perché è una lead pipe piuttosto aperta ecco le lead pipe sono un accessorio che ormai in tantissime tantissime aziende fa montano di standard diciamo sulle proprie slide e sono una possibilità in più per i musicisti di personalizzare il proprio modo di suonare a mio avviso non sempre questa è una caratteristica positiva o meglio è molto utile se sappiamo cosa stiamo cercando questo è un po' la prassi di quando abbiamo tanta libertà no quando abbiamo tanta libertà dobbiamo sapere cosa vogliamo perché altrimenti rischiamo di perderci ecco continuiamo quindi nella finalmente nella vista di questo bellissimo strumento le altre due lead pipe come vedete sono contenute in questa busta sono tre lead pipe in ottone eccola qua la terza continuiamo e scopriamo la campana che è un po' il cuore pulsante di ogni di ogni trombone ed è il momento a mio avviso più più magico quello dell'apertura e della prima vista dello strumento lo sto guardando anche io per la prima volta insieme a voi quindi sono parecchio emozionato siamo pronti eccolo ecco come si presenta il 47 psx di trombone vincent buck di peter steiner abbiamo come sempre tutte le spiegazioni con le informative per la sicurezza vedete che non c'è la campana che è contenuta in questo sacchetto adesso andiamo a scoprirlo insieme subito la prima primissima caratteristica è visibile è la questa forma della ritorta la ritorta è una ritorta artisan quindi una ritorta diversa dai soliti dai nostri 42 standard è una ritorta più aperta che dove hanno l'hanno studiata per trovare il giusto compromesso tra la compressione e la libertà dello strumento quindi è proprio una ritorta diversa dalla tradizionale a cui siamo abituati e naturalmente il disegno della ritorta che riprende un disegno già noto è quello della x il feeling dovrebbe essere quello di una ritorta aperta quindi una open flow ma con questa forma che mantiene la pompa della ritorta all'interno della pompa generale questo è una cosa comodissima perché se pensate di andare in buca in orchestra suonare abbiamo sempre il muro alle spalle che dà un fastidio bestiale per chi suona le ritorte open la pompa generale invece è una reverse eccola qua vedete reverse pompa generale pompa generale quindi main tune gialla quindi yellow brass pompa della ritorta gialla allora so che da catalogo si possono personalizzare alcune di queste caratteristiche peraltro monedi peter che a mio avviso è uno dei solisti attualmente più incredibili io lo seguo da tantissimi anni ne apprezzo veramente tanto il suo lavoro apprezzo tantissimo perché pierre devi sapere che questo ragazzo dalla mattina alla sera in giro masterclass concerti è sempre presente sui social è veramente un musicista iper moderno e pazzesco è un grande è un grande si decisamente ed è italiano tra l'altro peter steiner potrebbe si potrebbe esatto potrebbe non risultare in un nome italiano ma lo è italianissimo ma lui è italianissimo un'altra novità è il bellissimo appoggia pollice vedete in legno e la leva che spesso ha dato ha dato qualche problematica a questi strumenti è stata rivista completamente quindi è una leva di nuovissima concezione veramente interessante è una leva diversa dal solito non sono mai abituato a vederla così ed è molto bella campana abbiamo una campana in gold brass alleggerita quindi un peso leggero ma campana gold brass con un bellissimo disegno vedete nuovo disegno artisan stradivarius model 47 g anche questa si può ottenere nella invece in yellow brass gold brass e devo controllare se è possibile averla anche in gold brass non alleggerita bellissimo disegno disegno stupendo eccola qua e questa è la grande particolarità cioè il fatto di poter smontare come un po' avveniva da sempre sui corni è stato fatto anche sul trombone questo studio e effettivamente sta avendo molto successo e di molto di moda questa questa possibilità io ovviamente non sono ancora tanto abituato a farlo questo gesto però ecco il trombone poi si presenta in questa maniera credo sia che per una comodità di trasporto assolutamente sì il gira tanto mamma mia la forma della custodia cambia completamente e proprio il fatto di avere sulle spalle una custodia che praticamente potrebbe essere considerata quasi come una custodia da viola come dimensione naturalmente la culisse non può essere divisa in due pezzi però la trasportabilità di questo sistema è inercepibilmente interessantissima la cosa da verificare è il peso di questa ghiera che è un peso che andrà a influire poi su questa sul fatto che la campana potrebbe pesarci un pochettino in avanti lo dobbiamo valutare insieme e ognuno di noi poi chiaramente trarrà le proprie conclusioni ecco questa è la campana vi ho descritto brevemente le caratteristiche come potete vedere i braccetti sono montati in modo tale da non avere nessun tipo di blocco sulla campana quindi vedete che tra la ritorta e la campana non ci sono braccetti di unione quindi la campana è completamente libera di vibrare sia qui che qui che sotto infatti la ritorta seppur sia una ritorta molto solida cioè non presenta dei punti in cui delle criticità diciamo delle fragilità è molto molto solida ben strutturata legata solamente con questo braccettino eccola qua e Pierangelo grande dietro la videocamera e sto prendendo un po' di confidenza con questo zoomolo che esatto stiamo cambiando un po' i sistemi sistema nuovo e quindi ci direte anche se questo questo video vi piace anche dal punto di vista acustico ed estetico vedete che la campana può essere totalmente smontata vedete ecco qua ed ecco il perché vi dicevo prima che questa campana può essere scelta in vari modelli vari pezzi quindi due pezzi c'è il pezzo intero quindi senza la possibilità di staccarlo naturalmente non si chiama più Peter Steiner il trombone perché Peter lo suona così e può essere scelta in gold brass lightweight yellow brass e immagino suppongo anche in versione gold brass con il peso standard il trombone montato sarà dunque sarà dunque lui è molto comoda comunque questa custodia mi piace tanto una joint venture con guard che sicuramente è sempre sinonimo di grande qualità eccolo vediamo subito ma azzardi due note non ho qua il bocchino però vado a prenderlo ma sai che lasciare i nostri amici così avete ragione una cosa ragazzi la corsa della ritorta è stata accorciata è molto molto corta la corsa della ritorta quindi questo è che naturalmente comodissimo comodissimo è più veloce quindi avete più possibilità di avere tecnica proprio nell'uso della ritorta bisogna abituarsi perché se siamo abituati alle lunghe corse per esempio delle ritorte tire o delle infinity questa è molto diversa proprio come approccio come feeling il trombone è bilanciatissimo quindi quella cosa che vi dicevo della ghiera in questo caso non la sento non sento questo peso ci siamo vado a prendere il bocchino ah 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 Sì, 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 sì. Strumento veramente, prime impressioni ottime, voto direi altissimo, siamo nel top proprio del trombonismo, della parte strumentale di noi trombonisti, Bach ha trovato un ottimo modello, ha trovato un ottimo modello. Trovo che, come da tradizione, il registro centrale, mea culpa, va studiato. Rispetto al registro grave, rispetto al registro acuto, che sono molto immediati, molto facili da suonare da un certo punto di vista, il registro centrale va un pochettino lavorato. Naturalmente, chi deciderà di passare la sua vita studiando su questo strumento, ne passerà tante di ore a studiare, perché come deve essere, giusto Pier? Come deve essere per tutti i musicisti. E quindi questa cosa del registro centrale la supererà in maniera totalmente naturale. Trovo che questo sia un ottimo strumento. Brava, Bach! Grazie Geva Italia per averci permesso di avere questo strumento in negozio a disposizione per tutti voi e anche per tutti noi. Un saluto da Stefano e da Pierangelo. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao!